Cioè la città cambia ma non in maniera stravolta, vengono messe nero su bianco situazioni che erano per vari motivi portate avanti, portate avanti meno, l'amministrazione Fontania ha 5 anni di tempo per sistemare questo, non l'ha fatto, lo prendiamo in mano adesso e vediamo finalmente di dare ordine alla città, che penso sia alla fine del corso quello che anche i cittadini chiedono. Quello che noi contestiamo sulla ZTL è un po' il metodo che è stato adottato da parte dell'amministrazione, perché secondo noi quella di rimettere la ZTL è vero che è un iter che va avanti da molto tempo, poi anche durante la nostra amministrazione precedente era stato preso in mano e si era cercato di risolvere questo problema anche delle multe, dei ricorsi che erano stati fatti. Diciamo che la decisione di inserire anche Piazza 20 Settembre e le vie limitrofe nella ZTL è una decisione che abbiamo appreso tutti noi dalla stampa, una decisione un po' a ciel sereno che non è stata condivisa né con i commercianti né con i cittadini. Ovviamente i commercianti della zona si sono anche risentiti per il fatto che appunto verranno tolti numerosi parcheggi. Per rivitalizzare il centro sono necessarie anche altro tipo di azioni, non possiamo limitarci a dire mettiamo la ZTL e quindi pensiamo che il centro sarà più vivo, non basta sicuramente. Sono scelte che c'è stata una condivisione perché il dispositivo di questa ZTL è quello che è passato negli incontri con le categorie. È vero che le categorie non rappresentano probabilmente tutti i commercianti, è vero che giustamente all'interno a livello dei commercianti probabilmente tutti non la pensano nella stessa maniera, è anche giusto che tutti non la pensano nella stessa maniera, però si sta chiedendo non cose sconvolgenti. Cioè su via Cancianni, via Cancianni ci sono dei negozi con delle vetrine che H24 hanno, inutili neanche che mettano le merci in vetrina, perché c'è sempre perennemente una macchina parcheggiata davanti alla sua vetrina, quindi almeno che uno passi per lo stretto marciapiede non riesce a vedere cosa espone in vetrina.